Avete sentito le ultime dichiarazioni di De Laurentiis? Riguardano la prossima stagione. I tifosi del Napoli, dopo aver vissuto una stagione fantastica, aspettano con trepidazione il nome del prossimo allenatore. L'era Spalletti si è chiusa. Sulla lista del presidente Aurelio De Laurentiis, 40 nomi. Ovviamente quelli che balzano alla mente del numero 1 partenopeo sono molti di meno. Entro fine mese il mistero verrà risolto. La squadra avrà un nuovo allenatore e si potrà progettare il futuro. Il presidente Azzurro ha rivelato qualche novità sul futuro del Napoli nel corso di uno speciale dedicato alla scomparsa di Silvio Berlusconi, in onda su Rai 2. Queste le parole di De Laurentiis. Il nuovo allenatore, il Napoli, è sempre in buone mani. Bisogna stare sereni e tranquilli. Siamo sicuri che faremo un bel campionato. Tra i vari nomi accostati alla panchina partenopea, secondo voi, alla fine, chi la spunterà? Chi sarà il tecnico del Napoli nella prossima stagione?